Oltre 600 atleti di 36 squadre provenienti da tutta Italia, da Torino a Siracusa, in arrivo ad Arezzo per la 33esima edizione del torneo internazionale Guido Guidelli. Un evento tra i più longevi ed attesi del panorama nazionale, nel quale si sfideranno da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile giovani atleti dall'Under 12 all'Under 14 in decine di partite ospitate da 8 palazzetti di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Quel torneo inizia il sabato 23, il prossimo sabato, alle ore 13.45 iniziano le prime partite e finiranno la mattina del 25 aprile. L'ultima partita sono fino alle 13 mi sembra. Il 24 ci sarà questa bellissima manifestazione molto sportivo sociale dove ci sarà un galà di presentazione di tutte le squadre provenienti da tutta Italia o meglio da tutta Europa, compreso la squadra di Oswiecim, dove sfileranno all'interno del palacaselle tutti i ragazzi, ognuno con il proprio vessillo. Vedrete la bellezza del pallacanestro, non giocata, ma tutti i bambini nel campo che riempiranno questa struttura e con tantissime persone nei spalti. Ad impreziosire ulteriormente l'evento la presenza di una squadra straniera proveniente da Auschwitz, invitata dal comune che rinnoverà il proprio gemellaggio con Arezzo grazie al contributo di Confesar Centi. È 33 anni che si svolge, quindi ha un valore storico, sarebbe stato un peccato non dare una mano. Poi avvia il sport giovanile, quindi è anche un valore di preparare i giovani a una sana attività sportiva e poi è un valore economico importante perché le iniziative sportive possono essere il volano per il rilancio turistico della città e quindi quando c'è un'iniziativa che funziona cerchiamo di dare una mano. La tre giorni di pallacanestro sarà anche un'ottima occasione per il turismo sportivo. Porterà infatti in città circa 1300 persone tra atleti, tecnici e famiglie che hanno permesso così di riempire ben 13 alberghi, un importante stimolo all'economia del territorio. Questi sono eventi che invece hanno forte ricaduta sulla città, rimangono per più giorni e poi fanno conoscere il nostro territorio in giro per il mondo, quindi dovremo lavorarci e essere in grado di aiutare di più gli organizzatori. Grazie. 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 Grazie.